ragazzi salva a tutti vi presento oggi il nuovo isense c20 sono riuscito a reperirlo sul mercato italiano quindi garanzia italiana vi dico subito le caratteristiche 32 giga di storage interno così lo potete anche leggere vediamo se ci riusciamo a mettere a fuoco ecco qui 32 giga più 3 giga di ram interna 32 giga non sono espandibili su alcuni siti trovate che questo device abbia 16 giga con 2 giga di ram non è così da noi viene venduto con 32 giga più 3 giga apriamo vediamo che cosa troviamo dentro togliamo il telefono manualistica molto minimale con garanzia italiana spillino classico abbiamo il cavo usb micro usb cuffiette normali non in ear abbiamo questo caricatore da ben 2 ampere ragazzi si è da 2 ampere togliamo un attimo questo 2 ampere quindi che cosa significa è veloce certo che è veloce ma perché perché questo telefono ha una batteria che sulla carta dovrebbe essere eccezionale 3.000 e 100 milliampere chiaramente ragazzi non vi posso assicurare quanto dura la batteria perché il telefono ricevuto poco fa circa un paio d'ore fa e ho avuto il tempo di caricarlo e cercare insomma di riempire tutte le informazioni del caso nei prossimi giorni se riesco a fare 5 6 ricariche poi vi dirò quanto dura la batteria più o meno del telefono che possiamo dire un 5 pollici ips fotocamera da 13 megapixel posteriore e 5 megapixel anteriore non ha uno stabilizzatore ottico il peso 150 152 grammi ragazzi però non è pesantissimo si tiene bene in mano poi 5 pollici secondo me è la forma migliore perché quando andiamo a superare i 5 pollici poi per per muoversi è un po difficoltoso abbiamo un frame metallico sui due lati abbiamo questi inserti in gomma sopra e sotto questi inserti che servono a proteggere dagli ultimi perché questo telefono è garantito per cadute da un metro e mezzo accidentali chiaramente non solo questo telefono è impermeabile io sarò pazzo ma oggi l'ho provato a immergere per una ventina di minuti acceso l'ho tirato fuori ha continuato a funzionare e ancora funziona qui troviamo il tappino che chiaramente va tolto per inserire le cuffie avrei preferito che questa zona fosse impermeabilizzata dall'interno però non è così purtroppo perché dopo un po questo tappino secondo me si allenta abbiamo i classici tasti accensione spegnimento bilanciere eccolo qui quindi volume su e giù abbiamo questo tastino molto comodo per la fotocamera penso solo il sony abbia questo tipo di di tastino e oltre al tastino poi abbiamo qui togliamo l'alloggiamento delle sim delle sim si perché ragazzi questo telefono è dual sim lte qui abbiamo l'attacco del per ricaricare il telefono collegarlo al computer e qui abbiamo lo slot per le due sim oggi ho messo una sim perché non avevo due a disposizione e praticamente cosa ho fatto su una sim l'avevo sul p8 e una sim l'avevo qui le sim tutte e due della wind vi devo dire una cosa questo telefono è una recezione eccezionale non ha perso mai il segnale anzi dove il p8 era un po titubbante o perdeva il segnale questo telefono non mi ha mai abbandonato sono riuscito a telefonare in posti impensabili come qui dentro ragazzi materiali materiali plastica ragazzi rinforzata chiaramente perché seccate così e se il vetro si rompe davanti invece abbiamo corrilla classe 4 chicchetta doppio tap funziona perfettamente abbiamo tre piccoli tassini superiori che dove c'è il tasto per eventualmente fare una chiamata al volo lo sblocco e abbiamo la fotocamera qui sotto abbiamo i tasti per le funzioni messe fuori dallo schermo io li trovo molto comodi perché quando questi tasti si trovano all'interno dello schermo chiudono la grandezza del display quindi io preferisco qui l'unico neo che questi tassi dopo pochi secondi si spengono non sono riuscito a trovare non ho avuto tempo di guardare bene le impostazioni per fare questa mini recensione spero che ci sia questo tastino per diciamo modificare il tempo parliamo del telefono in sé allora il telefono apriamo le impostazioni e vediamo che cosa troviamo dentro info sul telefono come se riusciamo ad aprirlo eccolo qui abbiamo un 8 core 64 bit a un giga e 36 3 giga di ram abbiamo anche la versione del processore snapdragon 415 abbiamo la versione di android 5.1.1 aggiornamento firmware non l'ho fatto perché non ho avuto tempo ragazzi torniamo un attimo indietro vedete questi tastini si spengono molto velocemente la cosa un po mi infastidisce scusate se il telefono perde un po sembra un colore bluastro ma io ho abbassato al minimo la luminosità ragazzi perché se la metto al massimo ragazzi è accecante vediamo qui se riusciamo a trovarla livello di luminosità guardate è messa bassissimo anche perché il telefonino con il quale sto facendo le riprese si impalla se lo metto tutto al massimo non si vede più niente allora abbassiamolo un attimo vediamo un po livello di luminosità eccolo qui lo abbassiamo ok però devo dire che lo schermo si vede molto molto bene ragazzi mi ha sorpreso anche gli angoli di visione sono buoni si possono impostare i colori quindi abbiamo vari effetti più soft più carichi e non solo c'è anche un'altra impostazione che ho trovato che adesso non ricordo dove sia dove si possono proprio diciamo bilanciare i colori facciamo subito un giro su internet abbiamo stiamo facendo caricare tramite il wifi ecco qui il corriere della sera il telefono non è blu ragazzi non vi preoccupate quello che vedete ma è il telefonino col quale sto facendo le riprese si vede veramente veramente bene ragazzi poi non c'è nessun impuntamento scorre bene la pagina guardate qui ragazzi prende in 3g in 3g prima prendeva in 4g qui dentro dove gli altri telefoni non prendono nulla fixa benissimo anche il gps l'ho provato stamattina appena arrivato l'ho acceso ha fissato pochi secondi passiamo alla diciamo a sentire un pochino come si sente la parte della musica perché perché è il tasto a il scusate il lato parlante di sistema posto di dietro quindi se lo appoggiamo un po perde però devo dire che nell'insieme non si sente piano sentite bene adesso l'audio l'abbiamo visto e volevo far vedere un'altra cosa che ho fatto prima al volo cerchiamolo un attimo qui ecco qui abbiamo fatto un benchmark vediamo il risultato ecco qui devo dire che ha fatto il benchmark tranquillamente ha leggermente scaldato qui al centro però è una cosa minima ragazzi non dà nessun fastidio proviamo a fare una telefonata vediamo se ci riusciamo all'155 proviamo se riesce a prendere mettiamo lato parlante vediamo dov'è riesce a prendere anche qui dentro ragazzi mi dovete credere qui non c'è segnale questo telefono riesce a prenderlo è una cosa incredibile torniamo indietro vogliamo vedere un po di foto si ho fatto delle foto al volo ragazzi io poi ve le metterò direttamente con dei link diretti e mi dovete credere come fotocamera che una 13 megapixel dalla parte posteriore e 5 megapixel dalla parte interiore e mi ha sorpreso non ha uno stabilizzatore ottico ma fa delle foto veramente veramente belle ragazzi niente da invidiare a telefoni che hanno 20 megapixel mi dovete credere il video ne ho fatti due al volo proprio per provare vediamo un attimo così ve lo vedete in diretta poi ve lo posterò ha uno zoom fatto col pinche zoom quindi bisognerebbe impostare i tassi ma io al volo ho fatto questa cosa e devo dire che va benissimo ho cercato anche di riprendere il cielo e dopo vedrete come anche con pan veloce non perde il fuoco e soprattutto i colori sono quelli ragazzi vi posso assicurare adesso forse spara il blu è proprio la il video ma dopo vedrete che i colori sono questi torniamo indietro che dire perché l'ho acquistato mi serviva un telefono per che sia resistente ho provato nell'acqua si sono un pazzo ci ho provato e non ha avuto problemi quanto costa poco più di 200 euro ragazzi e per questo prezzo penso che non ci sia telefono per il momento che sia migliore vi faccio vedere un attimo la differenza di spessore tra questo telefono e il p8 questo è il p8 quindi potete vedere anche lo spessore la grandezza ecco che vediamo se riusciamo un attimo lo spegniamo quindi siamo lì unica cosa come vi dicevo le ditate ragazzi rimangono qui sul p8 no spessore abbiamo visto vediamo anche con il g7 il g7 è un altro device che sta all'incirca su questo prezzo ma il device diciamo che è un 5,5 questo è un 5 pollici è molto più grande diciamo il g7 in tasca in tasca questi due telefoni se la battono ragazzi devo dire che si è leggermente più fino questo ma il problema del p8 che scivola questo qui anche se in plastica lucida non scivola ragazzi c'è un bel grip quindi ve lo consiglio soprattutto a chi fa un lavoro che non vada tanto ai telefonini se gli cadono vi consiglio sempre di metterci una cover soprattutto per la fotocamera perché sporge un pochino qui quindi potrebbe rompersi e per il resto che dire spero che vi sia piaciuta la recensione se avete delle domande postatele e poi vi farò sapere cercherò di fare delle ricariche almeno 5 o 6 per vedere se la batteria da 3.200 dura almeno un giorno e mezzo visto che con questo telefonino con il p8 riesco arrivare fino alla sera con questo dovrei arrivare almeno al giorno dopo tranquillamente vi ringrazio e spero che vi è piaciuta questa recensione